Un team multidisciplinare in grado di curare il tumore al seno a 360 gradi. Sono le Breast Unit, centri di alta specializzazione di cui dovrebbe dotarsi l'Italia entro il 2016, secondo quanto stabilito dalla risoluzione del Parlamento Europeo del 2003. Ma nel nostro paese queste unità, certificate secondo i parametri dell'Eusoma, la società scientifica europea che si occupa di definire gli standard di qualità delle Breast Unit, per ora non ci sono, o meglio ci sono, ma sulla carta. Delle strategie da mettere in campo per certificare a livello nazionale queste unità hanno discusso a Roma chirurghi, oncologi clinici ed esperti del settore. La Breast Unit impone anche a chi si occupa del trattamento chirurgico della mammella di avere una competenza molto ma molto più specialistica e dedicata. La competenza del chirurgo senologo che si occupa di trattare tutta la patologia mammaria deve avere un ampio spettro di attività, nel senso che va dalla chirurgia demolitiva alla chirurgia ricostruttiva alla chirurgia oncoplastica. Questa nuova frontiera della chirurgia deve far parte del bagaglio culturale dei nuovi giovani chirurghi che si apprestano poi a dirigere queste unità multidisciplinari o comunque a dare il loro contributo in queste unità multidisciplinari. A lavorare per un primo monitoraggio delle Breast Unit già esistenti lungo lo stivale è SenoNetwork, un progetto nato con lo scopo di censire le unità di senologia dove il tumore della mammella viene trattato nel rispetto dei requisiti europei. Lo scopo è quello di far sì che tutte queste Breast Unit abbiano i requisiti che la società europea ha stabilito e quindi che siano di alta qualità e che questa alta qualità possa essere verificata magari attraverso un processo di certificazione. Questo è l'obiettivo perché ogni paziente in qualsiasi regione italiana deve trovare nelle Breast Unit che fanno parte di SenoNetwork un posto sicuro dove essere curata in maniera appropriata da specialisti formati ad hoc e i dati di queste Breast Unit devono essere raccolti in un database che permetta di fare un controllo di qualità in itinere. Penso che se qualcosa va affrontato in questi momenti di crisi, di difficoltà è proprio l'eccellenza, è proprio la prevenzione, è proprio quello che compete anche a centri di eccellenza come sono il campo biomedico e le altre università. Questo non mi stancherò di dirlo, che i tagli orizzontali non servono serve invece curare quello che è l'eccellenza ed eliminare quelli che possono essere le cadute di tono, le perdite di professionalità, le perdite di risorse economiche che vanno invece affrontate. Grazie